Siamo in presenza di coach Andrea Nicolai, stasera doppia vittoria, vittoria sul campo ma anche avete ribaltato il quoziente Canestri con Valsesia e quindi insomma le ultime partite fanno ben sperare, la lotta è dura, cosa rimprovera stasera alla squadra e cosa le è piaciuto? Ma rimprovero poco, c'è stato un po' di qualche errore per stanchezza perché nel finale chiaramente col fatto che ci manca due giocatori importanti come Blois e sostanzialmente Longobardi che non ha più di 5 minuti nelle gambe, gli altri arrivano stanchi e quindi c'è qualche errore di stanchezza. Però sono stati eccezionali i ragazzi, sono stati fantastici soprattutto nel preparare la partita perché era una partita complicata, c'era tante cose da preparare, Valsesia ha tante variabili tattiche, sono stati veramente bravi di testa ad essere lì e quindi sempre avanti grazie alla difesa e grazie all'applicazione dei ragazzi. Adesso è ancora durissima perché c'è Bottigone che sta vincendo, la nona è Bottigone e noi sappiamo che con tutto quello che ci è successo quest'anno il nostro scudetto è l'ottavo posto. Ci siamo vicini, manca poco ma non è ancora fatta, quindi c'è ancora da testa bassa e lavorare. Non può aspirare a più di un ottavo posto questa Fiorentina Basket? Noi come tutti gli sportivi ogni partita la giochiamo per vincere, però sappiamo che abbiamo delle problematiche degli scontri diretti per via dell'inizio balbettante dove abbiamo perso in casa con Piombino e Empoli. Un 2-0 con entrambe che ci dà molto noia, poi siamo con tanti problemi di infortuni. Noi vogliamo arrivare più alto possibile, però siccome non siamo nati ieri non ci vogliamo far incartare da aspettative troppo alte che poi magari vengono disilluse e viene fuori qualche critica. Noi sappiamo che se arriviamo ottavi con tutto quello che è successo è una cosa eccezionale. Se facciamo di più è un sogno, è bello sognare ma vogliamo arrivare in fondo e festeggiare l'ottavo posto come uno scudetto.